Bene, vediamo oggi la terza parte dell'introduzione storica del percorso che ha fatto l'idea di gravitazione universale e oggi ci occupiamo del periodo successivo all'epoca di Newton fino a l'ultimo fatto saliente, come vedremo magari di sfuggita, risale al 2015-2016. Qui c'è un breve elenco dei temi che trattiamo e ricordo brevissimamente la genesi dell'idea di gravitazione universale. Nel nasce dal pensiero razionale porta all'introduzione dell'analisi razionale appunto dei fenomeni naturali, in particolare la domanda su come è fatto il cosmo, vede una prima risposta accettabile al punto di vista moderno, come la terra che è una pezzo di roccia che galleggia nello spazio. Questo lo dobbiamo ad Anassimandro, in particolare ai pitagorici, il fatto che è una sfera. Poi un'altra conquista è stata realizzare che la terra si muove e questo è stato ipotizzato da Aristarco di Samu, quel sistema egliocentrico e il moto della terra ha avuto una prova, la prima prova probabilmente dovuta a fenomeni naturali, è la dibottazione usando la teoria delle maree di Seleuco di Seleucia, che è poi stata ripresa e riscoltata anche da Galileo successivamente. Forse il più grande astronomo dell'antichità, il parco di Nicea, si è occupato in dettaglio sia del moto della terra e ne ha dato probabilmente un'interpretazione dinamica che ahimè è andata perduta. Oggi lo riprenderemo riguardo a un punto molto importante che abbiamo accennato in quelle precedenti, che è la questione relativa alla sfera delle stelle fisse. Successivamente l'importanza del Sole era già conosciuta nell'antichità in relazione al moto dei pianeti e l'effetto su come si dirada, come si indebolisce l'azione a distanza è già stata studiata in ambito di parere rinascimentale da Roger Bacon, Ruggero Bacone se preferite chiamarlo così. La dipendenza all'inverso del quattro della distanza la troviamo già in un astronomo francese, Bouliot o Boulialdus, se preferite il nome latino, e poi viene acquisita e trattata approfonditamente da Newton nei principi. Newton però non l'attribuisce a se stesso, ok? Questo è importante. Torniamo un attimo indietro e andiamo a guardare un pochettino più in dettaglio la differenza tra, qui vedete a sinistra un disegno del sistema geocentrico o tolemaico, se preferite chiamarlo così, e il sistema copernicano, che è un disegno di copernico. Vedete che la struttura non è molto diversa, ok? C'è comunque una struttura circolare, sferica, chiusa, finita, limitata, con al limite esterno la sfera delle stelle fisse. Una prima idea del fatto che le stelle possono essere distribuite non lungo una sfera ma in tutto lo spazio, la troviamo in epoca pseudo-recente, in un disegno fatto da un astronomo matematico inglese, Thomas Dickens, del 1576, cui mostra, per la prima volta in epoca recente, ripeto, la distribuzione delle stelle all'esterno del nostro sistema come diluite nello spazio, non tutta la stessa distanza. Vi ricordo che invece Newton era convinto che la stella delle stelle fisse fosse una realtà fisica. Ci domandiamo se è stato il primo. In realtà abbiamo documenti che attestano che il primo a mettere in crisi l'esistenza delle stelle fisse e documentarne la non realtà fisica è il parco di Nicea, il quale fa fare un grosso balzo all'astronomia antica perché sviluppa modelli matematici in grado di prevedere le posizioni dei pianeti nel tempo, quindi l'astronomia da osservativa diventa una scienza predittiva, è in grado di fare previsioni sulle osservazioni future e sviluppa tutta una serie di metodi trigonometrici per completare questo a costo complico, per assolvere questo scopo. In particolare uno degli eventi più importanti a cui assiste probabilmente è la nascita di una stella nuova, e da stelle di questo tipo, quelle che nascono, si accendono in cielo, hanno proprio il nome latino, le nove. E c'è un brano di Plinio che racconta questa impresa iniziata dal parco, probabilmente l'esperimento più lungo di tutta la storia. Dice il parco si è accorto che esisteva una stella in cielo, un puntolino luminoso che prima non c'era. E dice che ha brillato per un certo periodo e che mi sembra gli è rilevato il fatto che questa si spostava, che non era ferma. E si chiedeva se questo non avvenisse più spesso di quanto uno non si accorga. A quel punto lì ha concepito un'impresa, che Plinio dice è difficile anche per un dio, di realizzare un catalogo stellare, cioè andare a fare quello che chiameremo oggi un censimento, un catalogo di stelle in cielo, dando loro le coordinate, cioè dandone una posizione quantitativa e dandogli un nome, in modo da poterli individuare anche nelle epoche future. Ed era ben consapevole che essendo le stelle così lontane, una generazione, cioè lui nella sua stessa vita non avrebbe mai potuto rilevare quantitativamente il moto di un adeguato numero di stelle, quindi lasciava questo compito a chi veniva dopo di lui. Per fare in modo che magari dopo uno o più secoli, riutilizzando il suo catalogo, magari qualcuno si sarebbe accorto che in realtà le stelle si muovono, anche se di molto poco. E Plinio, e Seneca anche in altri brani, si lamenta che in realtà questa eredità nella loro epoca non è stata raccolta da nessun astronomo, cioè non c'era nessuno in grado di completare questo esperimento. L'esperimento è stato completato molti secoli dopo, qui il catalogo di Parco si pensava perduto e nonostante noi avessimo in casa la prova che in realtà esiste, ha dovuto venire uno studioso americano ad accorgersene e ha pubblicato il suo lavoro nel 2005 presso un convegno della Società Astronomica Internazionale a San Diego in California e ha mostrato che se andiamo nel Museo archeologico di Napoli troviamo questa stato, che è una copia romana di una stato di epoca alienistica, che è l'Atlante, l'Atlante è un gigante che regge il monto sulle spalle e nel globo che rappresenta la Terra, che vedete qui dietro, sono riportate le posizioni di molte stelle e con un programma adeguato si riesce a far risalire la posizione delle stelle all'epoca in cui sono osservate e riportate nel catalogo e l'epoca è quella di Parco, quindi l'Atlante Farnese che si trova a Napoli, il Museo archeologico ripeto, è una delle prove che il catalogo di Parco in realtà era utilizzato anche dagli artisti, successivamente è stato inglobato in quello di Ptolomeo, nel magestro di Ptolomeo la gran parte delle stelle che Ptolomeo elenca sono in realtà provenienti dal catalogo di Parco. Molto più tardi, quasi 20 secoli dopo, Edmond Halley, quello della cometa di Halley, osservando le stelle in cielo e facendo il confronto a quel catalogo di Ptolomeo e quello di Parco, si accorge che in realtà molte stelle non sono nella posizione dove dovrebbero essere e quindi ne deduce che si sono spostate, confermando l'idea, l'intuizione che ha avuto il Parco del fatto che le stelle non sono per niente fisse, ma si muovono, quindi la sfera delle stelle fisse in realtà è uno schema semplificativo, cioè una semplificazione del modo in cui noi osserviamo il cielo, ma non ha una realtà fisica, è una convenzione, è qualcosa che ci serve per semplificare il problema, in realtà le stelle sono distribuite a distanze diverse l'una dall'altra e occupano tutto lo spazio, per cui la sfera delle stelle fisse in realtà non esiste, anche perché le stelle non sono fisse appunto, come ha avuto modo di dimostrare Halley. Torniamo alla questione principale relativa alla gravitazione, abbiamo visto come Newton pubblicando in principio nel 1687, ha costruito un sistema basato su tre relazioni molto semplici, cioè i principi della dinamica, che riguardano tutte le forze e applicandoli alla sua formulazione della forza di gravitazione universale, che vedete riportata qui sotto, riesce a interpretare, a spiegare sia i moti in cielo, i moti dei pianeti, sia in particolare le tre leggi di Keplero, che erano leggi empiriche, Keplero non aveva un'idea, una teoria che motivasse le sue leggi, erano descrizioni analitiche semplici delle sue osservazioni, l'interpretazione la dà Newton con la teoria della gravitazione universale, fondata su questa relazione, l'equazione che lega la forza con cui due corpi interagiscono come legata al prodotto delle loro masse e all'inverso del quadrato della distanza, qui vedete l'inversore R che dà la direzione della forza, e il meno che sta a significare che la forza è attrattiva. Pur in questo contesto, Newton si è scontrato con due grosse difficoltà, che non è stato in grado di superare. La prima è il fatto che Newton non conosceva il valore di G, noi adesso scriviamo l'espressione in questo senso, Newton diceva che F è proporzionale a M per M grande divisa R quadro, ma non conosceva il valore di G, non aveva la tecnologia necessaria a misurarlo. E un altro problema, lo vedremo tra un attimo, intanto occupiamoci di G, ci è avvoluto quasi più di un secolo affinché G fosse misurabile, e l'idea è venuta a questo personaggio, Lord Henry Cavendish, attualmente esiste ancora un ente che si chiama Laboratori Cavendish in Inghilterra, che è uno degli studi di ricerca di più alto livello in tutto il paese, e era un Lord, quindi un nobile, una persona che poteva occuparsi di scienza, poteva mezzi per poterlo fare, anche se era uno molto schivo, non amava il contatto con le altre persone, era proprio molto isolato, e ha avuto l'idea di costruire, proprio per misurare una forza, la forza di gravitazione, uno strumento particolare, che si chiama bilancio di torsione. E con questo è riuscito a misurare la costante G dell'operazione universale, e vedremo che la prima applicazione fatta ha consentito di misurare la massa della Terra, cosa che altrimenti sarebbe stata impossibile. Adesso vi mostro due filmati che vi illustrano come ha fatto a misurarlo, uno con un'animazione e un altro con un filmato di laboratorio vero e proprio. Entrambi li trovate su YouTube e vi metterò il link. Dalla legge della gravitazione universale si può dedurre il valore della costante G, a patto di misurare la forza F con cui si attraggono due masse note che si trovino a una distanza anch'essa nota. Le prime misure precise di G furono effettuate alla fine del Settecento dall'inglese Henry Cavendish, usando la bilancia di torsione, uno strumento molto sensibile a forze di piccolissima intensità. Quando due grandi masse vengono avvicinate alle sferecce appese al filo, la trazione provoca una torsione del filo e da questa torsione si può determinare il valore della forza. Si può misurare proprio l'angolo di rotazione della bilancia di questo asse, di questo manubrio con le due masse piccoline e ricavando l'angolo si può ricavare la forza che viene applicata alle due masse. Nelle unità del Sistema Internazionale il valore di G è molto piccolo, ciò significa che la trazione gravitazionale tra gli oggetti della nostra vita quotidiana è piccolissima. dell'ordine di 10 alla meno 10, ci sono domande? Questa è l'animazione, l'idea base della bilancia di torsione, vediamo adesso un'esperienza in laboratorio che visualizza la stessa forza di gravitazione tra due oggetti sulla terra. Questo è il filmato del PSSC, è un po' vecchiotto, spero che si riesca a vedere bene, ma è molto valido. La prima forza, la forza di gravità, è una forza potente, tutti voi pensate che deve essere enorme, soprattutto tiene insieme l'universo, fa girare la terra sulla sua orbita. Ma come sarà la forza di gravità tra due oggetti ordinari? Per vederlo basta fare un metallico, tra poco lo faremo. Prima di passare al vero apparato, vediamo un po' con cosa lavoreremo. ecco due bottiglie d'acqua e un'asta di legno. L'asta è sostesa per mezzo di un altro magnetico. Voi tutti saprete che il pendolo di torsione è lo strumento più sensibile che il pensico abbia. Il rispetto in particolare è sufficiente soffiare da un lato ed esso parte. Ora diamo un'occhiata all'apparato che adoperete. Ci siamo portati in un garage per sfuggire alla confusione dello studio di ripresa. Vogliamo ripetere un esperimento eseguito da Cavendish quindi cento anni fa. Noi cercheremo di misurare la forza di gravità tra una scatola di tabbia e una bottiglia d'acqua. Anche voi potete ripetere l'esperimento se volete. Non è molto difficile. Noi invece di usare una sola bottiglia usiamo due bottiglie d'acqua e due scatole di tabbia. Le due bottiglie d'acqua sono appesi ad un'asta. l'asta è sottesa per mezzo di un nastro magnetico e così il nastro magnetico si arriva fin quasi al soffitto. Il periodo di oscillazione di questo pendolo di torsione è assai lungo, circa 12 minuti. e che sarà necessario accelerare le oscillazioni cinematograficamente, circa 60 volte più veloci della realtà. al fine di mostrare l'angolo di torsione del pendolo c'è questo specchio assicurato ad un'asta. un fascio luminoso riflesso dallo specchio riproduce sul muro le oscillazioni. non so se vedete qui c'è il chiaro ma voi lo vedete in 12 secondi. riuscite a vederla che si sta spostando quello è utile per rilevare la posizione del pendolo del nastro magnetico. se lo specchio è fissato a quello, se ruota lo specchio ruota anche l'immagine che lo specchio proietta sul muro. Adesso segno il centro dell'oscillazione. quella è la posizione di equilibrio dove non ci sono forze sulle due bottiglie. ora si avviamo a sistemare le scatole di pazzia in modo che indersitino la loro forza sulle due bottiglie. le due scatole sono poste in posizione tale che le due forze si sommano. le facono ruotare nello stesso senso. il nero era l'equilibrio senza le due masse. adesso il mando si sposta verso destra. quindi le due pacche di sabbia esercitano una forza sulle due bottiglie d'acqua altrimenti il pendolo non si torcerebbe. ma è una forza molto 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 piccola. per questo all'epoca di newton non erano in grado di rilevarla. anche se newton era abile a fare gli esperimenti e non era riuscito a farlo. e questa è la nuova posizione di equilibrio. vedete che il pendolo si è storto, si è girato. le scatole dove erano al principio. le mettiamo nella posizione opposta. in modo che esportino il pendolo nel senso contrario. quindi si inverte la direzione della torsione. prima era magari verso destra, adesso verso sinistra. così l'effetto dovrebbe essere ancora più intenso. vedete l'immagine chiara si sposta verso sinistra. quindi pur essendo una forza molto debole è comunque misurabile in laboratorio. infatti una delle cose più strane della gravitazione diversale è l'idea che i corpi si attragano l'un l'altro è qualcosa di molto diverso dall'esperienza di tutti i giorni. perché? perché la forza è molto piccola e molto debole. c'è voluto uno strumento così sensibile per poterla misurare. avete visto l'effetto della forza di gravità che agisce fra corti relativamente piccoli. il problema è questo. è grande questa forza? sapete che non ci vuole molto a torcere un pezzo di astro magnetico? adesso vi da una dimostrazione del fatto che lo strumento deve essere posto in condizioni particolari perché sapete tutti che per esempio vedremo a suo tempo la forza elettrostatica se io strofino il maglione sento dei cricracco ogni tanto oppure se strofino un pezzo di plastica riesco a sollevare dei pezzettini di carta lo vedremo prossimamente per riuscire a fare in modo che questa forza non influenzi il pendro cioè che vada a sovrapposti a quelli di gravità bisogna schermarlo come vedrete tra un istante. dal pavimento alto fisso pure si pensa di solito che la gravità sia una forza notevole ricordate però che la massa della terra che vi tira in giù è parecchio più grande della massa di quella fatia notate un'altra cosa notate che il vetro e la rete di schermo non hanno effetto ma la rete c'è per una ragione guardate questo esperimento ricarico questa bacchetta di plexiglass strofinandola sulla manica e introllero un pezzo di carta facilmente vediamo ora se la carica che esiste sulla bacchetta ha qualche pezzo sulla bottiglia la rete serve a schermare il petto elettrico è enorme in confronto a quella gravitazionale ma ora torniamo nell'aula ad occuparsi un po' per questa ragione è un esperimento molto difficile lui dice che è facile ma non è tanto facile perché bisogna stare attenti a molte cose a molti effetti uno in particolare è l'effetto elettrico che magari uno pensa che sia presente ma muovendosi nella stanza eccetera ci si può facilmente caricare facilmente se una giornata è secca però in ogni caso stando ben attenti a questi effetti si riesce a dimostrare a verificare l'effetto gravitazionale su due masse diverse anche sulla superficie della terra fu se l'interazione è molto debole perché la costante che domina questo effetto la costante di gravitazionale universale è dell'ordine di 6 per 10 alla meno 11 nell'unità di energia internazionale quindi è molto 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 debole ok? dopo aver compiuto con successo la misura della costante di gravitazionale universale una delle prime applicazioni fatte del valore di G è quello di misurare di valutare la massa della terra prima era impossibile prima non si riusciva a fare che dati ci servono? beh, il valore dell'accelerazione di gravità sulla superficie della terra 9,81 m² questo era noto anche ai tempi di Galileo il valore del raggio terrestre già misurato da Eratosta nel secondo secolo a.C. circa 6.400 km e il valore di G ottenuto da Cavendish se applico la seconda legge della dinamica un corpo o qualsiasi oggetto anche un sassolino che cade o il gesso che lascia cadere in quest'aula la forza è la massa per l'accelerazione quindi M piccolo massa del sassolino o del gesso per l'accelerazione di gravità G che è 9,81 m² ma utilizzando e confrontando questo con la legge di gravitazione universale di Newton questo vale anche G grande la costante di gravitazione universale per il prodotto della massa del gesso per la massa della terra diviso la distanza gesso centro della terra che è il raggio della terra al quadrato la massa del gesso posso semplificarla appunto via e da qui l'unica incognita mi rimane la massa della terra che vale quindi G piccolo per il raggio della terra alla seconda diviso la costante G appena determinata e si ottiene il valore attuale della massa della terra noi stimiamo che sia circa 6 x 10 x 24 kg questo ovviamente apre la via allo studio fisico della struttura terrestre perché se non conosco la massa della terra non posso neanche indagare su quali sono le sue altre caratteristiche quindi qui si apre la porta la porta a una nuova forma di scienza che è la geofisica ok? e questo è stato possibile solo dopo aver misurato G senza il valore di G grande questo sarebbe stato cioè nessuno l'aveva fatto precedentemente perché mancava questo dato cruciale è tutto chiaro? altro problema che aveva Newton il concetto di azione a distanza cioè se prendiamo la legge di gravitazione universale cosa ci dice? dice beh se io ho la terra metti in questa posizione m è piccolo e il sole in quest'altra r è circa 150 milioni di chilometri Newton si chiedeva com'è possibile che due corpi così lontani riescano a interagire l'uno con l'altro senza toccarsi qui c'è un brano della lettera che Newton nel 1670 qualcosa mi pare scrive al vescovo Bentley in cui dice io sì ho trovato come interagiscono due corpi diversi mediante la forza di gravità ma come questa possa essere trasmessa da un corpo all'altro senza qualcosa di materiale in mezzo senza qualcosa che comunichi alla terra che questa è soggetta alla forza di gravitazione universale per me dice è una tale assurdità che io stesso ho difficoltà a crederlo a capirlo pur anche se ne ho discusso a lungo nel mio libro e dice che chiunque ne capisca un pochetto sicuramente si pone questo problema e dice io non so come rispondere dice la famosa frase ipotesis non fingo cioè non figuro ipotesi so che funziona così ma non so il perché mi sembra una cosa dice addirittura è impossibile da fraccettare agli altri il fatto che due oggetti lontani si influenzino l'un con l'altro cioè uno influisca sul moto dell'altro anche a così tante distanze e non ha trovato la soluzione si è fermato lì ha costruito questa teoria fondamentale ancora un inizio ma il meccanismo per cui la forza si trasmette per Newton era un mistero la risposta viene da un ragazzaccio di strada un vero e proprio teppista che grazie ai consigli di sua madre è riuscito a trovare un lavoro presso una legatoria di libri e pur essendo teppista era una persona molto intelligente il padre al tempo non l'aveva mai conosciuto era nato negli stand nel quartieri stand di Londra che era un quartiere non proprio consigliabile ma va a lavorare in una legatoria di libri ed essendo una persona molto curiosa anche se hai mai ignorante si studia, legge i libri prima di consegnarli dopo averli legati attenzione ai libri di scienza a quell'epoca erano tutti in latino non esistevano libri in inglese quindi per poterli leggere doveva conoscere il latino e frequenta all'epoca si utilizzava spesso il fatto che i studiosi di scienza in generale davano dimostrazioni pubbliche per stupire le persone uno di questi era Humphrey Davy uno dei più grandi chimici dell'epoca e Michael Faraday va ad assistere alle esibizioni di questo chimico di Humphrey Davy e poi va a parlare con lui diceva sono molto interessato mi curiosissi molto quello che fai eccetera Humphrey lo fa lo convoca lo fa venire lo fa andare a lavorare all'università e il primo incarico che ha Faraday all'università è quello di pulire le provette del laboratorio di chimica successivamente è diventato probabilmente uno dei più grandi e più abili sperimentatori della storia conduce lavora per l'università ha un incarico e fa una relazione su circa 800 esperimenti che sono la base la base sperimentale su cui è fondata tutta la nostra teoria dell'elettromagnetismo però siccome non aveva una formazione matematica adeguata la parte teorica su questa è stata costruita da un altro personaggio che qui vedete qua sotto questo barbuto che è Maxwell James Clerk Maxwell che invece aveva una robustissima formazione matematica e l'idea chiave per la quale cito questi due personaggi è l'idea di campo poi Michael Farad dice lui in realtà si occupava del fenomeno elettrico e non di quello gravitazionale ma il principio è lo stesso cioè due cariche elettriche l'una di base lontana dall'altra si influenzano anche se sono lontane l'una dall'altra perché ciascuna delle due crea un campo cioè permia lo spazio con questo ente fisico che trasmette la forza ed è un'idea chiave un'idea geniale se adesso sei andato a sentire una conferenza di fisica o un video di fisica sentite la parola campo migliaia di volte è un concetto fondamentale più forse ancora più del concetto di forza il concetto di campo è un personaggio principale in tutte le teorie della fisica moderna ok che cosa perché cosa si intende con questo idea cos'è il campo nel caso specifico nostro il campo gravitazionale beh immaginiamo le nostre due masse M grande potrebbe essere il sole M piccolo la terra o il pianeta quello che volete voi allora la la teoria di Newton ci dice guarda se hai due corpi a distanza R l'uno dall'altro questi due interagiscono con questa forza ok se facciamo il rapporto tra la forza che agisce sul pianeta P nella posizione R a distanza R dall'M grande diviso la massa di chi subisce la forza ok vediamo che le due M piccolo si semplificano e rimane qualcosa legato a M grande che è ciò che produce la forza che in nostro caso sarebbe il sole e R che è la posizione della quale le calcolo la forza quindi questo vettorino più piccolo G piccolo dipende solo da chi produce l'interazione e da dove mi interessa calcolarla quindi questa è una funzione della posizione questo si chiama campo gravitazionale se volete in termini più semplici il campo gravitazionale in un punto dello spazio è la forza che si esercita sulla massa posta in quella posizione diviso per la massa stessa oppure se preferite la forza per unità di massa e il fatto notevole è che rende utile il campo è il fatto che la massa nella la massa che subisce il campo nel valore del campo non c'è più si semplifica ok quindi il campo gravitazionale è una funzione vettoriale della posizione dipende solo da dove voglio calcolarlo d'accordo e altra utilità del campo se io riesco a calcolare il campo con qualsiasi tecnica che la matematica poi ci fornirà in un certo punto dello spazio per esempio dove è il pianeta m piccolo il fatto di conoscere il campo gravitazionale in quel punto mi dice immediatamente quanto vale la forza che agisce su quel pianeta sufficiente di moltiplicare campo per massa cioè inverto la definizione se G ed F diviso M allora F è M per G però questo mi consente di superare il dilemma dell'azione a distanza perché perché la forza è esercitata sulla terra dove sta la terra dipende dalla massa della terra e dal campo nella stessa posizione non ho più bisogno di parlare di azione a distanza posto che io sappia calcolare il campo in tutte le posizioni dello spazio in quel punto lì qualunque punto mi interessa all'interno del campo mi permette di calcolare in quel punto quale sarebbe la forza esercitata su un pianeta posto nella stessa posizione quindi di conseguenza che cos'è il concetto di campo? il campo è una funzione vettoriale della posizione cioè una proprietà che lo spazio acquisisce in virtù del fatto che in questo spazio esistono delle masse che producono il campo gravitazionale è un campo vettoriale quindi più masse producono più campi che si sommano vettorialmente l'uno con l'altro e via dicendo tutta la proprietà dei vettori per visualizzarlo posso utilizzare diversi strumenti quello più semplice è quello delle linee di campo immaginate delle linee orientate in questo caso se ho il campo gravitazionale della terra sono tutte delle semirette dirette verso la terra e le linee di campo sono delle linee che servono per dare un'idea grafica del campo e hanno questa proprietà in ogni punto ok la linea di campo è tangente al vettore campo gravitazionale in quel posto quindi se per esempio ho che ne so due masse come la terra e la luna posso immaginare di andare a fare la mappa del campo gravitazionale in tutti i punti all'interno dello spazio dove questi due oggetti si trovano e tracciare delle rette delle curve in questo caso che siano in ogni punto tangenti al vettore campo totale cioè dovuto alla luna più quello dovuto alla terra che mi danno un'idea di come va il campo gravitazionale in questo sistema ripeto se ho solo la terra ho delle semirette entranti entranti perché la forza è attrattiva quindi sono dirette verso il centro di attrazione che in questo caso il centro della terra se ho più oggetti ciascuno attirerà un'eventuale massa, pietra o quello che volete voi nello circondare quindi dovrò combinare più campi vettoriali diversi e otterrò strutture di campo piuttosto peculiari a seconda di dove stanno le masse che producono il campo e di quanto grandi sono qui per esempio c'è il campo gravitazionale questi questi segmentini danno un'idea di come è diretto il campo dovuto a due masse una vicino all'altra potrebbero essere per esempio che ne so la terra e la luna ok qui avete il caso di anche due masse vicine qui invece il caso di campo elettrico la differenza principale tra il campo elettrico e quello gravitazionale è il fatto che quello gravitazionale è solo attrattivo mentre quello elettrico può essere attrattivo e anche recursivo le cariche dello stesso segno si respingono mentre le masse tutte le masse si attraggono comunque questo è uno strumento grafico utile per dare una visualizzazione per dare un'immagine di come va il campo dove le linee di campo sono molto sono vicine il campo è più intenso dove sono diradate e molto debole tra queste due masse nel punto centrale il campo è nullo perché qui un oggetto sarebbe in equilibrio lo tira tanto a sinistra tanto a destra la forza sia nulla ok questo è uno strumento fondamentale e fin qui tutto bene come sempre succede nella storia della scienza una teoria funziona spiega sempre una data mole di dati sperimentali ma entra in crisi quando ci sono fatti nuovi che non possono essere inquadrati nella teoria vigente fino a quel momento ok uno forse dei primi problemi che ha avuto la la teoria della gravitazione di Newton è quello rilevato da un astronomo francese europeo a fine nella seconda metà dell'ottocento 1850 studiando l'orbita di mercurio e le veri dice guardate che l'orbita di mercurio non obbedisce alle leggi di capvero non è un'ellisse e in realtà è una struttura fatta più o meno come in questo disegno qua sotto cioè è un'ellisse ma non è chiusa perché l'asse maggiore dell'ellisse ruota nel tempo quindi l'orbita non è chiusa è come se fosse un'ellisse ruotante ok dice la precessione del perielio dell'orbita di mercurio allora sono state ipotizzate le più disparate alternative che si può darsi che sia dovuta al fatto che mercurio comunque vicini altri pianeti venere la terra eccetera eccetera tenendo conto anche di quelli si riesce a spiegare ma solo in parte questo tipo di anomalia la spiegazione completa ed è che corretta dell'anomalia dell'orbita di mercurio è dovuta al fatto che mercurio essendo il pianeta più vicino al sole è quello in cui la forza di gravità o se preferite ancora meglio il campo gravitazionale del sole è quello più intenso e se il campo gravitazionale è molto intenso insorgono fatti che Newton non è in grado di spiegare la teoria gravitazionale di Newton non ne può rendere conto c'è bisogno di una teoria più generale che includa anche questi effetti e questa è la teoria dell'attività generale di Einstein 1915 1916 circa ok solo tenendo conto di quegli effetti il moto il moto dell'orbita di mercurio il precessione del periodo di mercurio può essere spiegata appieno ok su cosa è fondata su cosa si basa la novità introdotta da Einstein vediamo se riesco a spiegarlo in termini semplici facciamo un passo indietro torniamo al secondo principio della dinamica è la legge di gravitazione universale nel secondo principio della dinamica la costante di proporzionalità tra forza e massa e accelerazione scusate è una misura dell'inerzia come abbiamo discorso a lungo in largo quando abbiamo introdotto i principi della dinamica se devo spingere se applico una data forza a che ne so l'armadio nella stanza l'armadio si muove di poco perché è una grande massa se la stessa forza la applico alla sedia riesco a spingerla facilmente perché la sedia è una piccola massa anche se la forza è la stessa ok quindi la massa cioè questo numerino che indichiamo con la M è una misura di quanto difficile è cambiare lo stato di moto di un oggetto cioè una misura della sua inerzia ok ciò che invece appare nella forza di gravitazione universale è una misura di quanto corpi diversi anche se lontani si attraggono l'un l'altro a priori queste due masse non hanno niente a che fare l'una con l'altra sono due grandezze fisiche totalmente diverse non c'è motivo per il quale debba essere la stessa cioè perché l'inerzia deve produrre una forza attrattiva non c'è nessun motivo però di fatto sono esattamente la stessa cosa e il motivo per il quale le due masse sono identiche lo vediamo tutte le volte che abbiamo studiato la caduta dei corpi se per esempio accetto il fatto che la massa inerziale e quella gravitazionale si possono semplificare allora applicando la gravitazione universale alla caduta dei corpi è immediato concludere il fatto che tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione di gravità come abbiamo visto sia in cinematica studiando la caduta dei gravi sia con studiando la forza peso tutti i corpi sulla terra hanno la stessa accelerazione di gravità questo è dovuto il fatto è la prima prova del fatto che massa inerziale e gravitazionale sono la stessa cosa questo si chiama principio di equivalenza ed è stato l'eguaglianza tra le due forme di massa quell'inerziale e gravitazionale è stato misurato in moltissimi esperimenti ed è forse una delle misure più precise che abbiamo a mente ok l'inerzia e la sorgente della gravitazione universale sono la stessa cosa quello che a priori non è detto che doveva succedere questo principio il principio di equivalenza e quindi il fatto che posso semplificare la massa quando studio il moto dei corpi soggetti alla forza di gravità ha un ruolo rilevante perché? beh perché se semplifico la massa del corpo che subisce la forza il suo moto non dipende dalla massa stessa è un po' come non so come spiegare ehm se immaginate ecco la rete autostradale italiana ok è una struttura legata alla geografia allo spazio è una proprietà geometrica se volete del nostro territorio che la percorra una 500 che la percorra un camper un tir o qualsiasi altro veicolo la strada è sempre la stessa e questa equazione ci dice la stessa cosa la ehm il tipo di moto cioè il percorso che un oggetto fa se subisce la forza di gravità non dipende dalla sua massa è una proprietà dello spazio è una proprietà posso interpretarla come una proprietà geometrica del l'universo in cui mi trovo e che cos'è che produce questa struttura geometrica la presenza delle masse che producono il campo gravitazionale ecco l'idea base che sta sotto la gravitazione universale l'idea di gravità di Einstein che supera quella di Newton la gravità deforma o modifica lo spazio conferendogli delle proprietà che chiamiamo campo gravitazionale le quali sono le responsabili del moto degli oggetti all'interno di questo campo e quindi c'è una equivalenza un'interazione se volete stretta tra dove stanno gli oggetti nello spazio quindi i pianeti il sole eccetera e le proprietà geometriche dello spazio stesso che sono quelle che influenzano i moti viceversa le proprietà geometriche dello spazio sono quelle che dicono come si distribuisce la massa perché le masse si muovono e si collocano a seconda della geometria dello spazio-tempo nel quale mi trovo questo è il principio base su cui ha costruito la nuova concezione della gravità immaginatevi dopo abbiamo un video che vi mostra forse più efficacemente che lo spazio qui ragioniamo in due dimensioni sia proprio un telo una superficie piatta la presenza di masse all'interno di questo spazio modifica lo spazio-tempo e lo altra lo deforma come succederebbe se io su una su una pellicola di plastica mettessi che ne so una mela una biglia un sasso quello che sia questa si piega si deforma quello che noi chiamiamo campo previtazionale non è altro che una misura di questa deformazione di questo piegamento chiaramente tanto più alta è la massa tanto più grande la deformazione ok? qui abbiamo per esempio questo video è l'ultimo che facciamo poi un tema si mette un corpo pesante che deforma lo spazio e tutti gli oggetti che si muovono sentono la deformazione e cadono verso l'oggetto ok? c'è una domanda mi sono dilungato un po' troppo dimmi no perché cambia perché cambia questo se tu metti un corpo pesante qui la massa di questo non dipende dalla sua dalla sua entità di risente se è piccola altrimenti anche questo contribuisce a deformare lo spazio per mappare lo spazio lo spazio-tempo deve usare qualcosa di piccolino che non alti la situazione che trovo già l'inglobiazione è corretta varia le proprietà del campo gravitazionale punto per punto che sono quelle che dipendono che tengono conto di dove stanno le masse e di quanto grandi sono e viceversa però a seconda di quel campo gravitazionale che trovo se mette un oggetto in un posto questo si muoverà in un modo o in un altro a seconda del campo in quel posto non della sua massima ok un'altra cosa che volevo mostrarvi era le onde gravitazionali che c'era un altro filmato che sono state rilevate nel settembre 2015 e 15 l'annuncio è stato dato il febbraio 2016 hanno portato il premio Nobel per per questa scoperta che è una delle più azzardate previsioni della teoria della gravitazione universale di Einstein il fatto che lo spazio-tempo può vibrare può produrre delle onde che si propagano nello spazio ultima ultima diapositiva cosa c'è nella ricerca attuale la gravitazione universale adesso all'interno della teoria della levità generale è uno dei due pilastri della fisica l'altro la meccanica quantistica bisogna metterli insieme perché le due teorie tra di loro attualmente sono inconciliabili la frontiera adesso è questa trovare una teoria che le inglobi tutti e due che si chiama teoria del tutto probabilmente avrete visto il film la teoria del tutto il cui obiettivo è proprio questo trovare una teoria matematicamente consistente che inglobi entrambi gli effetti cioè che vada bene sia su grandi distanze gravitazione sia su piccole distanze meccanica quantistica dimmi un'altra domanda Certo quindi questo forse ma magari anche la forza è molto più intensa sì quello è lo stesso effetto solo che lì la forza è molto più intensa e ci sarebbe un modo perché magari i due forzi che in questo momento si tragono non si vede in realtà magari quindi no l'abbiamo visto con la bilancia di torsione però la bilancia di torsione riesce a mettere in evidenza questa attrazione che essendo tanto debole questa sedia non attrae il tavolo perché? perché l'atterrazione è talmente piccola che l'attrito quel pavimento blocca l'effetto della gravità arrivo subito certo che si potrebbe solamente se le masse sono molto intense